Cerca la traccia in profondità, riceve in aria, c'è retro passaggio, una parata, di nuovo lui, trovano la rete, a questo punto il gol è una vera mazzata per gli avversari, si è avventato sul pallone e l'ha messo dentro, che reazione, ha letto la situazione e ha anticipato la traiettoria del pallone, arrivando prima di tutti. Grazie.